...di vedere come verranno tirate le cinghie, meglio no, perché sennò se sto girato verso di voi, come vedete, niente. Quello che sta facendo il mio assistente adesso, sta legando le cinghie sulla schiena, sono quattro cinghie in cuoio. Grazie a tutti. 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 ... 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